E quindi siamo pronti come abbiamo detto a vedere come si costruiscono, come si possono costruire delle espressioni più complesse per governare la logica dei condizionali, delle if. Qualche indizio l'abbiamo già avuto, nel senso che abbiamo già visto che gli operatori maggiore o minore, anche list clause, restituivano un valore che veniva chiamato true o false. True o false che cos'è? È un valore di un tipo di dato nuovo di cui non abbiamo parlato finora. E questo tipo di dato è il cosiddetto valore di tipo booleano. Per chi non ha mai sentito la parola booleano è un termine derivato dal nome di questo George Bull, che era un filosofo matematico che negli anni, nell'Ottocento, ragionava sulla formalizzazione del linguaggio. Quindi su come poter costruire una matematica attraverso la quale poter ragionare sulla correttezza formale delle affermazioni che venivano fatte. Cioè questo signore era uno di quelli che sperava di riuscire a tradurre le leggi o i regolamenti in una serie di equazioni e poi poter calcolare se una certa cosa fosse vera oppure falsa, se una certa affermazione fosse vera o falsa. Noi sappiamo che i nostri politici sono ben oltre, sono in grado di dire il vero e il falso contemporaneamente più volte, su più livelli. Ma lui, poverino, era un matematico e quindi ha inventato una matematica nuova che si basasse su dei valori che erano molto più semplici rispetto ai valori numerici, rispetto alla matematica dei numeri reali che siamo abituati a conoscere. La sua matematica è basata su due soli valori, il vero e il falso. In Python esiste un tipo di dato nuovo, oltre agli interi, ai floating point e alle stringhe che abbiamo visto, in realtà esiste anche un tipo di dato che è il booleano. Abbreviazione booleano, e le variabili di tipo booleano, il valore di tipo booleano possono assumere solamente due valori, che si rappresentano attraverso la costante true e la costante false, proprio scritte così dentro il codice. Allora, noi abbiamo visto che ci sono alcuni modi per far saltare fuori questi valori. Se io prendo la console, abbiamo visto che se io scrivo Python console qua, se io scrivo 3 maggiore di 2, mi stampa true. True è un valore che posso anche memorizzare, io posso dire a uguale true. E vedete che se scrivo A uguale true, lui mi crea una variabile A, di tipo bool, che ha come valore il valore true. Gli unici due valori, oppure B uguale false. Quindi true e false, scritte così nel codice, senza le virgolette, perché se scrivessi C uguale true con le virgolette, sarebbe una stringa, e non un booleano. Vedete la differenza, true con gli apici è un valore di tipo stringa, str, mentre non è un valore di tipo booleano. Quindi sono delle costanti di tipo booleano. Quindi come scrivere Z uguale 0? Dove inizializzo una variabile con una costante di tipo intero. Mentre qui inizializzo con una costante di tipo booleano. Questo tipo booleano, poverino, come dicevo, ha solamente due valori. Salta fuori da tutti gli operatori di confronto. E quindi, appunto, se io faccio 3 maggiore di 2, viene fuori vero. Se faccio 10 minore di 5, mi dirà che è falso, e così via. Mi chiederò se math.isclose, se 1 e 2 sono abbastanza vicini, mi dirà che è falso, eccetera. Quindi, molte operazioni, operatori di confronto e alcune funzioni, alcune in questo caso è una funzione della libreria math, restituiscono un valore booleano, un valore vero o falso. Questi valori veri o falso, in realtà, li possiamo anche, appunto, come li ho memorizzati nella variabile A, B, di memorizzare all'interno di variabili, per ricordarmi, a distanza di tempo, se una cosa era vera oppure falsa. In questo caso, le variabili booleane, cioè le variabili che memorizzano valori booleani, spesso prendono il nome di flag, bandierina, un indicatore. La bandierina può essere alzata o abbassata, su o giù. Allora, come all'interno del programma posso calcolare un valore alla riga 10, un valore numerico, 3 per 2 più 7, lo calcolo alla riga 10 e poi quel valore lì lo metto in una variabile x perché alla riga 50 mi servirà quel valore. Quindi lo memorizzo in una variabile per usarlo più tardi, un valore numerico. La stessa cosa posso farla con un valore booleano. Semplicemente una variabile booleana si ricorderà una verità o una falsità di una certa cosa e quindi ci permette di capire se una certa condizione è stata vera in passato o è stata falsa in passato. Questo lo useremo molto, moltissimo quando faremo i cicli, dove ripetiamo tante volte l'operazione e poi alla fine dobbiamo chiederci se almeno una volta ha avuto successo oppure no. Per ora, fino a quando non vedremo i cicli nella settimana prossima, questo concetto di flag sembra poco utile tutto sommato. E possiamo anche dire che l'istruzione if, cosa che prima non abbiamo detto, abbiamo semplificato, l'istruzione if richiede come di specificare una espressione di tipo booleano. Quindi quando scrivevamo if 3 maggiore di 2, era perché 3 maggiore di 2 è un'espressione che restituisce come risultato un valore booleano, vero o falso. if mat.isclose lo potevamo scrivere perché isclose restituiva un valore booleano. Io non potrei scrivere if 3 più 2, perché 3 più 2 fa 5 che è un valore intero, non è un valore booleano e quindi non può essere usato come condizione di un'istruzione if. Dicevamo, Boole ha definito una matematica che si basa su questi due valori, true e false, adesso scriveremo sempre così e non in italiano perché così ci ricordiamo che sono le parole del linguaggio Python corrispondenti, e come tutte le matematiche non solamente ho dei valori ma anche delle operazioni che posso fare su questi valori. e gli operatori della matematica booleana, dell'algebra booleana, principali sono questi tre definiti come AND, OR e NOT. Cos'è un operatore booleano? Beh, un operatore è in questo caso un'operazione che prende due o più valori booleani e calcola un nuovo valore sempre booleano sulla base del valore dei precedenti. Quindi, ad esempio, l'operatore AND prende a scrivere A AND B, avrà un valore che è vero se sia A che deve essere un booleano ha un valore vero, sia B che deve essere un booleano ha valore vero. Se invece A è vero e B è falso, il calcolo dell'operazione di AND restituirà un valore falso e così via per tutte le altre combinazioni. Quindi, quando noi diciamo, come anche lo diciamo in italiano, è vera una cosa e un'altra, ecco, affinché la frase che diciamo abbia senso, sia valida, devono essere vera, la prima cosa deve essere vera, e anche la seconda cosa deve essere vera, devono essere vera contemporaneamente. Quindi, l'operatore AND richiede che i vari valori booleani, che molto spesso magari sono presi da espressioni di confronto, siano veri tutti contemporaneamente. E lo vediamo qua, in questo esempio. Se la temperatura è maggiore di 0 e, contemporaneamente, la temperatura è minore di 100, vuol dire che è compresa tra 0 e 100, ok? Che la temperatura è maggiore di 0 e anche minore di 100, vuol dire che è compresa tra 0 e 100, in questo caso esclusi perché c'è un minore e non un minore uguale, allora dirò che l'acqua è allo stato liquido. Ok? Quindi, io ho due condizioni, ciascuna delle quali può essere vera o falsa, l'altra può essere vera o falsa, ma la mia IF lavorerà solo se entrambe, tutte e due, saranno vere. Se una sola delle due è falsa, quindi se la temperatura fosse di meno 10, meno 10 significa che questa prima è falsa. Questa seconda però è vera, perché meno 10 gradi è minore di 100, ma poiché una è falsa e l'altra è vera, metterli in congiunzione AND dà un valore falso. Quindi con meno 10 avremmo, se tempo uguale a meno 10 e la temperatura fosse meno 10, avremmo falso AND vero, ecco falso AND vero ce l'abbiamo qui, dà come risultato falso, e quindi questa IF leggerà IF falso, e quindi non eseguirà il codice sotto la IF, eventualmente eseguirà quello sotto la ELSE. Quindi il modo per combinare più condizioni in parallelo è metterli insieme usando gli operatori booleani. AND è il principale che può essere eseguito così, oppure come dicevamo possiamo anche prendere questa espressione booleana, che è la stessa che c'era prima nella IF, memorizzarla in una variabile booleana, in una variabile che assume il valore booleano, che è so, IS LIQUID, e poi a questo punto questa variabile, poiché contiene il valore vero o falso, può essere usata direttamente come condizione dentro una IF, perché io quando vado a valutare quanto vale questa variabile, non mi viene fuori 7, non mi viene un numero, ma mi viene un valore booleano, vero o falso. Questo, come dicevo, per ora non ne vediamo il grosso vantaggio, lo vedremo meglio quando faremo i cicli, ma dal punto di vista, diciamo così, del codice sono la stessa cosa. Semplicemente qui ho calcolato un'espressione che combina degli operatori di confronto e degli operatori booleani, quindi dei maggiori, minori e degli AND, e ho usato immediatamente il valore calcolato di questa espressione, l'ho usato immediatamente nella IF. In quest'altro caso a destra, ho calcolato lo stesso valore, non l'ho usato immediatamente, l'ho salvato, l'ho messo in tasca dentro la variabile IS LIQUID, che poi avrò usato qualche istruzione più avanti. In Python esistono anche delle scorciatoie, ad esempio noi siamo abituati per dire se la temperatura è completa da 0 e 100, scriverlo così, matematicamente. Con l'operatore booleano AND, in realtà abbiamo imparato che si può scrivere, si possono valutare separatamente i due rami della disuguaglianza, quindi 0 minore di temp e temp maggiore di 100, e ovviamente devono essere entrambe vere contemporaneamente. Quindi questa è la traduzione in Python della disuguaglianza che c'è scritta sopra. Il Python è uno dei pochissimi linguaggi che ci permette anche di scrivere la stessa espressione in un modo più compatto. Cioè la maggior parte dei linguaggi di programmazione in realtà questa espressione vuol dire una cosa completamente diversa, e 99 su 100 è sbagliata. In Python però lui comprende l'uso concatenato, cioè l'uno in serie all'altro, degli operatori di confronto, e quindi si può anche scrivere così senza mettere l'AND, e quindi senza ripetere due volte la variabile temp. Io lavorando solo in Python non c'è nessun problema a usare questo, se ci abituiamo magari a conoscere anche altri linguaggi ci verrà più naturale invece usare la forma estesa. Tanto questa forma estesa funziona anche per condizioni diverse, non è semplicemente compreso tra, ma anche escluso, oppure quando un lato è compreso e l'altro non è compreso, oppure i valori esterni rispetto a, qui sono chiaramente molto più espliciti perché sto dicendo pezzo pezzo le varie condizioni che devo verificare. Questa è una forma compatta che in alcuni casi, chiaramente applicabile, ma essendo più compatta non può rappresentare sempre tutte le condizioni. Però usiamole tranquillamente entrambi, ok? Vabbè, questo... L'altro operatore booleano che troviamo spesso è l'operatore OR, che invece è l'operatore duale rispetto all'AND. Nel senso che l'OR mi restituisce un valore vero, quindi è contento, se almeno una delle due condizioni che sta mettendo insieme è vera. Quindi, in questo caso dice, se la temperatura è minore di zero oppure la temperatura è maggiore o uguale a 100, vuol dire che sto considerando tutto l'intervallo da meno infinito, no, da meno infinito no, perché l'infinito non ce l'abbiamo in informatica, ma da numeri molto negativi fino a zero compreso, mi rendono vera la prima disuguaglianza, la prima, scusate, il primo confronto. Poi tutti i valori da 100 in poi, 100, 101, 102, 103, 10 milioni, mi rendono vera la seconda. Quindi un valore di meno 5 rende vera la prima e falsa la seconda. Però vengono combinati dall'operatore OR, che se la prima è vera e la seconda è falsa, mi dà un risultato complessivo vero. Quindi vedete che la A or B è sempre vero, tranne l'unico caso in cui sia A che B fossero falsi all'inizio, allora l'OR mi restituisce un valore falso. Ok? Quindi in questo caso mi sto chiedendo se la temperatura è minore di zero o è maggiore di 100, tra l'altro sono due condizioni che non possono mai essere vere contemporaneamente per come sono costruite. Ma a me basta che una sola delle due sia vera per poter dire che l'acqua non è allo stato liquido. Boh, sarà allo stato solido o allo stato gassoso, questo non lo sappiamo perché dovremo andare a vedere quale delle due, la prima o la seconda condizione, parte della condizione sia vera. Quindi abbiamo questi due operatori, AND e OR, che ci permettono di combinare tra di loro varie condizioni, quasi sempre operazioni di confronto, con un significato diverso. L'AND richiede che tutte siano vere, OR richiede che almeno una sia vera e quindi perlomeno non siano tutte false. Se siano almeno una vera e non sono tutte false, l'OR è contento di restituire il valore vero. Invece l'AND è molto più restrittivo, richiede che tutte siano vere. Queste tabelle qua, che vediamo sulla destra, come mi suggerisce Salvatore, si chiamano tabelle della verità, che di fatto rappresentano tutti i casi possibili, le combinazioni possibili, che si possono verificare con questi operatori. Chi ha fatto un po' di elettronica ha usato queste strutture per costruire circuiti che a loro volta implementano le funzioni booleane. Invece qua non le usiamo semplicemente come funzioni che ci aiutano a controllare l'esecuzione del programma, ma la stessa matematica booleana serve per costruire circuiti elettronici digitali su cui funzionano i computer. Quindi se volessimo, diciamo così, sintetizzare con diagramma di flusso, l'OR mi dà tanti percorsi diversi, alternativi, tanti modi diversi, per poter essere true. Mentre l'AND lo possiamo schematizzare così, nel senso che è true solamente se tutti i controlli in serie vengono passati, sono entrambi tutti soddisfatti. E per far compagnia AND e OR ci esiste anche l'operatore NOT che invece inverte la condizione booleana. Quindi il NOT di una certa cosa è falso se la cosa di partenza era vera o viceversa. Quindi se avessimo ad esempio questa condizione dice se sei presente e NOT grade minore di 60, allora questo qua è un po' contorto perché dice che se sei presente e il tuo voto non è minore di 60, quindi sarà maggiore o maggiore o uguale di 60. Qui avrei potuto scrivere maggiore o uguale anziché usare il NOT. Ovviamente ho preferito scriverlo così. Mi inverte semplicemente la funzione. Tommaso mi chiede se NOT e ELSE sono simili. Sono simili e non sono la stessa cosa chiaramente perché ELSE è un'istruzione che mi permette di creare un blocco. NOT è un operatore pensatelo come segno meno. Se avete un numero ci mettete meno davanti. Allora lui da positivo diventa negativo. Il NOT funziona nello stesso modo. Una condizione booleana la inverto. Se è vera diventa falsa se è falsa diventa vera. Però quella magari non è il NOT di tutta la IF ma solamente di un pezzettino quindi automaticamente non ti fa ricadere nell'ELSE. Qui è un esempio del NOT usato su una variabile che in precedenza probabilmente abbiamo a cui in precedenza abbiamo assegnato un valore booleano. Quindi sei presente se non sei presente. Quindi quando prima avevamo memorizzato isLiquid o cose di questo genere è una variabile che contiene un valore booleano posso usarla così posso invece chiedere il suo valore complementare. Sono simili alle quindi usare il NOT ad esempio con l'uguaglianza è equivalente a dire diverso. Quindi molto spesso il NOT non è indispensabile basta riscrivere l'espressione in un modo leggermente diverso. E quindi normalmente qui ci sono alcuni esempi come al solito presi dal libro che vi trovate di condizioni diverse messe in AND o messe in OR ricordiamoci solo che l'AND richiede che tutte siano vere contemporaneamente. e anche se sembra semplice molto spesso c'è il rischio di confondere un pochino l'AND e l'OR l'AND è l'intersezione delle varie combinazioni quindi se io ho dei valori compresi in un certo range userò AND invece l'OR è l'unione quindi nel caso in cui sia ad esempio voglio considerare i valori esterni in un intervallo dovrò prendere come vi ho detto il minore OR il minore del primo OR maggiore del secondo le parentesi tonde nella condizione si possono usare col NOT oppure si possono usare in altri casi si possono sempre usare le parentesi tonde non c'è problema nel caso di dubbio mettiamole sempre soprattutto perché adesso abbiamo delle espressioni che cominciano ad avere delle operazioni aritmetiche piano meno 1 delle operazioni di confronto maggiore di 13 e delle operazioni booleane AND OR NOT allora l'ordine con cui esegue le operazioni è chiaro prima fa le operazioni aritmetiche poi fa i confronti poi mette insieme le condizioni booleane in quest'ordine tra le condizioni booleane tra l'altro LAND si comporta come una moltiplicazione e l'OR come una somma e quindi viene calcolato prima LAND e poi l'OR nel caso in cui ce ne fosse più di uno ma è chiaro che per un'espressione complicata è meglio sempre mettere qualche parentesi in più per rendere più esplicito l'ordine con cui intendiamo calcolare l'operazione e poi pensare bene ai vari casi quando scriviamo condizioni complesse dobbiamo chiaramente pensarci bene e ragionarci un pochino ovviamente ma qui non entro nel dettaglio ci sono delle regole visto che questa è un'algebra booleana avrà delle regole quindi dirà l'operatore AND è un operatore commutativo così come l'OR sono associativi quindi li puoi mettere in qualunque ordine una catena di AND e associarli in modo diverso ci sono anche le proprietà distributive dell'AND rispetto all'OR e dell'OR rispetto all'AND le varie proprietà che abbiamo imparato sulla somma e la moltiplicazione in qualche modo hanno dei dei parenti anche all'interno della logica booleana con la differenza che A e B non sono numeri chiaramente ma sono solamente valori veri o falsi cito solo senza senza approfondirla quella che è diciamo così una formula che magari chi di voi arriva da un istituto tecnico ha visto che è la legge di De Morgan che permette di mettere in relazione i tre operatori AND OR e NOT e dice che se io avessi A e B e voglio negare il fatto che A e B siano veri contemporaneamente è come se dicessi che A non è vero oppure B non è vero ok A e B sta dicendo A e B sono veri contemporaneamente NOT sta dicendo non è vero che A e B sono veri contemporaneamente allora vorrà dire che o non è vero A o non è vero B o non è vero nessuno dei due per carità a destra c'è questo non è vero A oppure non è vero B ma di sicuro non sono entrambi falsi quindi almeno uno tra A e B è falso e è analogamente l'altra allora questa non ce la dobbiamo studiare ma è un operatore che mi permette di trasformare gli AND in OR e viceversa vedete che qua c'è un AND e qui c'è un OR oppure mi permette di applicare l'operatore NOT su un AND e quindi fare sì che il NOT è un po' come un meno quando il meno lo porto dentro la parentesi lui si applica ai singoli addendi se invece il meno lo devo applicare a una moltiplicazione si applica a uno solo di essi ecco la legge di Morgan è la regola con cui il NOT si porta dentro o fuori dalle parentesi e se vedete che il NOT quando lo metto dentro la parentesi si applica ai singoli operandi ma inverte l'operazione la AND la fa diventare OR se invece era OR la fa diventare AND e questo è un esempio di due condizioni che sono equivalenti ma sono scritte in modo duale rispetto alla legge di Morgan qui vedete che c'è diverso AND diverso AND diverso quindi un diverso continua dentro di sé un NOT non è USA e contemporaneamente non è Alaska e contemporaneamente non è Hawaii e l'altro invece dice è USA oppure è Alaska oppure è Hawaii questo oppure 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 è esattamente il contrario rispetto a quell'altro e infatti vedete che c'è un bel NOT davanti che fa sì che tutta la sua tutta questa espressione sia esattamente equivalente a quell'altra quindi dico è diverso da 1 è diverso da 2 è diverso da 3 è diverso da 1 e è diverso da 2 e è diverso da 3 e qui invece dico non è né 1 né 2 né 3 non è uguale a 1 oppure non è uguale a 2 oppure uguale a 2 oppure uguale a 3 detto in italiano si perde nel senso che questo tipo di costrutti diventano molto spesso più complicati rispetto alle frasi che riusciamo a gestire con la lingua italiana quindi conviene diciamo così concentrarsi su ciò che c'è scritto perché a volte se cerchiamo di tradurre l'italiano per capirle in realtà non le capiamo meglio ma ci confondiamo solamente di più allora questo è ciò che ci serve per gestire le espressioni più complicate che già parecchie volte in chat mi chiedevate ma posso fare solo un confronto posso fare due confronti contemporaneamente eccetera sì e si fanno diciamo così combinando tra di loro le espressioni le singole espressioni di confronto che danno un valore booleano combinandole diciamo così con gli operatori booleani allora questo ci permette di andare a riprendere come avevamo detto prima il nostro esercizietto sugli appuntamenti ad esempio e possiamo provare a renderlo questo era molto semplice ma possiamo provare ad aggiungere qualcosa ad esempio noi ci eravamo chiesti prima e proviamo a mettere insieme un pochino le cose che abbiamo visto adesso con le cose che abbiamo visto ieri voi mi chiedevate ma io voglio che l'orario a questo punto non sia solamente espresso come ore ma come ore e minuti benissimo vediamo come possiamo fare allora fatemi fare un file separato che chiamo ore e minuti in cui fare delle prove quindi io vorrei leggere un orario nella forma ore due punti minuti esempio 10 e 30 ok e analizzarlo e usarlo poi una volta che abbiamo capito come farlo possiamo andare a modificare il nostro programma di appuntamenti di conseguenza allora prima cosa noi abbiamo l'orario uguale input orario formato hmm e lo chiedo all'utente e lo leggo come stringa se lo leggo come stringa chiaramente l'utente può inserire ciò che vuole mi piacerebbe a questo punto estrarre un valore numerico che mi rappresenta quell'orario potrei estrarre magari separatamente le ore e i minuti ok quindi come faccio da una stringa formata in quel modo quindi ad esempio abbiamo detto la stringa è 10 e 30 ma potrebbe anche essere le 9 0 0 ma potrebbe anche essere le 0 9 0 0 dipende come ce lo scrivono allora possono arrivarci delle cose così e poi in realtà può arrivarci qualunque altra cosa che non è simile a questa perché se uno poi alla fine inserisce invece 1 2 3 4 dobbiamo dire che questa non va bene se uno inserisce ciao vuol dire che non va bene se uno inserisce le 10 0 0 0 0 non vanno bene cioè noi abbiamo un formato ben preciso in cui poter lavorare allora dobbiamo innanzitutto capire piccolo algoritmo fin dove sono le ore e dove sono i minuti separarli e convertirli in interi ok l'operatore slideshow non lo conosciamo ancora quindi dobbiamo aspettare un attimo prima di usarlo allora qualcuno mi dice ore uguale orario di 0 più orario di 1 questo funzionerebbe ma non in questo caso nel caso 9 0 0 in cui le ore siano solamente un'unità e non ci siano decine non funzionerebbe allora innanzitutto noi dobbiamo direi lavoro a pseudocodice ok prima di tutto controllo se c'è il due punti e dove si trova la prima cosa se non c'è due punti non va bene se c'è due punti allora vuol dire che i caratteri che lo precedono sono le ore e i caratteri che lo seguono sono i minuti Luigi mi dice ore uguale int di orario no non funziona perché se ha il due punti se io provassi a fare int di 10 e 30 mi dà errore perché il carattere il due punti non è un carattere valido quindi non lo posso fare ok allora io trovo quindi diciamo che diciamo chiamiamo posizione la posizione dove si trova i due punti e questo qua potrà essere se tutto va bene nel terzo carattere poso uguale a 2 oppure nel secondo carattere come 9.00 poso uguale a 1 ricordiamoci che la posizione l'indice dove si trova un carattere dentro una stringa viene sempre contato a partire da 0 ok allora la prima operazione che possiamo fare è questa dopodiché separo creo una stringa che contiene i caratteri primi del due punti verifico quello che mi state dicendo verifico che questa stringa sia lunga uno o due e contenga solo cifre e a questo punto converso la stringa in intero e poi faccio la stessa cosa con i minuti creo una stringa che contiene i caratteri dopo i due punti verifico che questa stringa sia lunga uno o due e contenga solo cifre e converto la stringa in intero e questi sono i minuti allora il primo punto ci convince questo algoritmo dopodiché mi avrò ore e minuti separatamente che tra l'altro saranno scomode per la cosa degli appuntamenti start uno cos'è è l'ora e le minuti no e dovrebbe essere un valore solo allora in realtà quello che potrei fare è calcolare ore per 60 più minuti quindi di fatto calcolo un tempo scalare in minuti a partire dal mezzonotte cioè il vero trucco è quello di dire ma non impazziamo con ore e minuti alla fine il tempo lo rappresentiamo l'esercizio funzionava bene perché bastava indicare l'ora e noi riconduciamoci a un caso in cui basta indicare i minuti dallo 0 0 1 2 3 60 60 i minuti che passano dalla mezzanotte quindi se fosse alle 8 del mattino sarebbero 8 per 6 48 480 minuti dalla mezzanotte questo si può fare e poi il programma lavorerà tranquillamente con questi valori numerici scalare perché sono semplicemente crescenti non sono complicati con ore e minuti separati il problema è che però ore e minuti le devo ottenere le devo ottenere da un dato di input che è fatto così ok quindi qui alla fine ci sono due idee una è rappresentiamo il tempo in questo modo un tempo lineare misurato in minuti la seconda è però dobbiamo analizzare la stringa per riuscire a estrarre le componenti di questi giustamente voi mi fate notare che devo anche contenere devo anche controllare che le ore siano minore o uguale 23 e che questo siano minore o uguale in minuti a 59 certo certamente ok allora prima quindi ci convince ci manca qualcosa secondo voi perché se secondo noi c'è tutto allora possiamo apprendere blocco per blocco e tradurlo in codice e scrivere il codice python corrispondente questo lo commento perché se no mi da errori allora proviamo tenete presente che noi abbiamo già in mente il programma sappiamo cosa fare abbiamo in mente l'algoritmo non abbiamo grossito nulla sono solo commenti questi e abbiamo solo un'istruzione e da qua in realtà abbiamo la prima e l'ultima istruzione è tutto in mezzo ancora da pensare sappiamo cosa fare anche se forse non siamo ancora sicuri bene di come farlo ok alcune cose magari ci mancano allora adesso ci vediamo passo passo così rispondo anche alle vostre alle vostre osservazioni Emanuele ha scritto qualcosa che va abbastanza sì a prima vista sembra andare bene allora però io lo farei in un modo un pochino più generale usiamo anche le funzioni che conosciamo orario se vi ricordate è una stringa allora ieri abbiamo rapidamente guardato i metodi che si applicano sulle stringhe e ad esempio c'era un metodo che si chiamava find un trucco su PyCharm se voi scrivete o state scrivendo un metodo o qualcosa quando siete lì sopra schiacciate la combinazione dei tasti CTRL Q CTRL Q credo che su Max sia Command Q vi apre questa finestrella di documentazione allora la funzione find che cosa fa? ritorna l'indice più basso all'interno della stringa S dove viene trovata una certa sottostringa sub se non la trova ritorna meno 1 allora questa riga CTRL se c'è due punti e dove si trova potrei farla con una find del due punti quindi l'istruzione find è un metodo che si applica a una stringa orario è una stringa in uno di questi formati l'operazione find cerca all'interno di questa stringa orario se è compresa un carattere oppure una sottostringa che potrebbe anche essere una cosa più lunga io qua potrei avere 0-0 vedo se c'è la sequenza 0-0 se c'è una sequenza di carattere e una stringa all'interno di un'altra stringa se c'è mi restituisce l'indice della posizione di partenza da cui inizia la sequenza quindi si restituisce un numero intero che è ritorna l'indice più basso il più basso vuol dire il primo un indice cioè un intero singolo apice e doppio apice sono equivalenti si può usare l'uno o l'altro a piacere Alessio quindi troviamo la posizione abbiamo tre casi ok ci sono tre casi un caso è quello in cui il due punti sia nella posizione tre scusate 0-1-2 la posizione 2 il terzo carattere abbiamo il caso in cui il due punti sia il secondo carattere abbiamo il caso in cui il due punti proprio non c'è ok quindi possiamo valutare i tre casi possibili quindi se pos è uguale 2 due punti altrimenti pos uguale 1 altrimenti pos uguale meno 1 altrimenti quindi andiamo a chiederci quindi cerco la posizione del due punti il due punti ovviamente qua lo devo mettere tra apici perché è una stringa costante che voglio inserire nel testo la stringa che contiene un solo carattere di due punti e quindi vado a valuto dove valuto dove si trova i due punti quindi se la posizione è 2 vuol dire che l'ho trovato in due punti in terza posizione quindi come 00 00 se la posizione è uguale a 1 vuol dire che il due punti è in seconda posizione come 00 se la posizione è uguale a 1 vuol dire che il due punti non c'è proprio se invece ricado nell'es generale è in una posizione c'è ma in una posizione diversa ad esempio potrebbe essere due punti 00 in prima posizione ad esempio potrebbe essere 00 due punti 00 o altre cose e ovviamente in tutti questi casi non va bene posizione posizione uguale meno 1 posizione uguale meno 1 è il caso in cui non trova la stringa quindi il due punti non viene proprio trovato all'interno della stringa orario quindi non c'è proprio quindi ad esempio lui ha scritto ciao oppure ha scritto 0 1 2 3 4 eccetera dove il carattere due punti proprio non c'è allora la funzione find ritorna meno 1 grazie Noemi che mi dice anche Andrea che mi dicono che qui non è un else ma è un elif chiaramente perché sono tutti casi in alternativa qui vengono ancora segnalati come errore perché python si aspetta che dopo ciascuno di queste istruzioni ci sia un blocco e per ora non c'è ancora scritto nulla solo commenti e quindi dice attenzione che hai degli if vuoti e le if vuote sono vietate ok allora vediamo cosa fare in questi vari il metodo posizione uguale a meno 1 è un modo di fare del metodo find sì infatti ce lo scrive proprio qua il metodo find attenzione che se non lo trova ritorna meno 1 è una particolarità è il modo che a lui di dirti non l'ho trovato esiste anche un altro metodo ad esempio search se non sbaglio si chiama index scusate il metodo index invece si comporta in modo diverso funziona anche lui sulle stringhe vedete che la prima parte è uguale ritorna all'indice più basso dove viene trovata sotto stringa ma se non è trovata genera un errore quindi blocca il programma quindi ogni funzione ogni metodo ha il suo modo di comportarsi e ha il suo modo di comportarsi nei casi normali quindi qual è il valore che ti restituisce ma anche come comportarsi nei casi anomali in alcuni casi ti restituiscono un valore in gergo noi li chiamiamo valori sentinella cioè un valore strano che non può essere valido e allora vuol dire qualcosa di diverso ma devi conoscere la funzione per sapere qual è il valore quindi questo è qualcosa che si impara conoscendo le funzioni leggendo la documentazione quindi abbiamo questi quattro casi ok in realtà questi ultimi due casi in realtà li possiamo anche trattare nello stesso modo cioè se il due punti non c'è oppure se c'è una posizione sbagliata in entrambi i casi in realtà dobbiamo fare la stessa cosa cioè non va bene no il valore non è valido quindi potremmo anche volendo unirli in un caso solo sì teoricamente con uno oro in realtà nel caso dell'else non c'è nessuna condizione in più quindi l'oro non serve neppure quindi basterà semplicemente basterebbe mettere semplicemente l'else cioè questo elif è una se vogliamo una sfumatura in più che in realtà non ci dà intercettare il meno uno se vogliamo ci può cambiare messaggio d'errore via possiamo scrivere qua print manca il simbolo due punti quindi dato non valido oppure possiamo dire formato data non valido ma per distinguere i messaggi d'errore mentre invece negli altri due casi invece abbiamo del lavoro da fare nel primo caso è facile separiamo grazie ora separiamo le ore dei minuti a questo punto sappiamo dov'è il due punti il due punti si trova nella posizione due quindi nel terzo nel terza casella e quindi possiamo legittimamente dire che le ore sono ottenibili dalle prime due caratteri quindi orario orario di 0 più orario di 1 perché sappiamo che dentro l'orario di 2 c'è il due punti e i minuti li posso ottenere come orario di 3 concatenato con orario di 4 per ora ce li ho sotto allora rispondo alle domande in ordine Fabrizio mi dice se avessi usato index non avrei potuto far comparire un messaggio di errore personalizzato al momento attuale sì se avessi usato index e il due punti non ci fosse stato il programma si sarebbe interrotto per capire come intercettare e gestire gli errori di questo tipo dobbiamo aspettare fino alla penultima settimana di corso quando tratteremo la gestione delle eccezioni quindi per ora abbiamo usato find che è un pochino più diciamo così addomesticabile da questo punto di vista Marco e Emanuele dicono uno il contrario dell'altro Marco mi dice ma se io nell'input scrivessi ciao con ci due punti ao è certo che non sarebbe valido dobbiamo poi controllare ma io l'ho scritto che devo controllare che contenga solo cifre e Emanuele dice il contrario perché lui dice posso fare un int direttamente di questo e attenzione che se faccio un int di questo e se per caso non contenesse solo cifre mi dà un errore allora io faccio un passo per volta questo questo ore per ora è sotto forma di string quindi diciamo estraggo ore e minuti ma ancora come string poi ci penserò a controllare come numeri ok esatto con il numeric lo vediamo lo faremo subito sotto ok Gabriele giustamente mi dice attenzione che se uno mi scrivesse 10 2.5 quindi lui mi dice però su questo non ci siamo messi d'accordo cosa devo fare il programma se scrivo 10 2.5 lo deve valutare giusto o no perché adesso il programma si pianta si blocca perché quando cerca di accedere orario di 3 sarà il 5 orario di 4 non esiste e mi dà quindi un errore cioè se io cercassi di fare 10 la stringa 10 2.5 e prendere il carattere 3 qui lo scrivo qua sotto come costante ma è la stessa cosa che prendere la variabile mi dà il 5 se cercassi di prendere il carattere 4 mi dà errore perché dice che l'indice è fuori dal range consentito allora però prima di dirmi attenzione prima di dirmi cosa fare dobbiamo decidere se questo qua lo accettiamo o no è valido o non è valido se è valido decidiamo come gestirlo se non è valido decidiamo come verificarlo ok sono tutti pigri e dicono che non sono no non come 10.50 al massimo 10.05 va bene nessuno lo vuole valido quindi questo è non valido poi chi vuole invece prova a farlo invece come se fosse valido ma lo possiamo fare come variante eventualmente ok quindi lo consideriamo non valido allora vuol dire che in questo caso noi potremmo fare un controllo in più no tutto è arrivato da qua orario di 4 c'è ma non sono neanche sicuro che ci sia orario di 3 attenzione perché se io avessi scritto 10.2 punti e basta la stringa finiva lì ricadevo comunque in questo caso perché il find mi dava tranquillamente la posizione 2 no e già in orario 3 mi sarei schiantato quindi qua verifichiamo se la posizione è uguale a 2 innanzitutto verifichiamo come dite appunto sappiamo che questo orario deve essere ci sono due cifre per le ore poi due punti e poi abbiamo deciso che ci debbono essere due cifre per il minuto quindi devo verificare che la lunghezza a questo punto dell'orario sia esattamente 5 allora posso fare sto lavoro allora qui lavoro sul tranquillo no allora ho trovato i due punti i due punti in terza posizione in totale ho 5 caratteri e va bene adesso sono tranquillo altrimenti se la lunghezza di questo orario non fosse 5 cosa devo fare? beh per ora 9.05 va benissimo 9.05 ah no scusate 9.05 ricado in posizione uguale a 1 non c'è in questo caso qui siamo nel caso in cui il due punti sia in terza posizione tu vuoi Maria Chiara vuole mettere questa Leng davanti a tutto secondo me no perché se noi prendiamo 9.00 ha solo 4 caratteri e non ne ha 5 quindi controlleremo se il due punti è in terza posizione deve essere lunga 5 e se il due punti è in seconda posizione invece ne devo contare solamente 4 else else non va bene ok else devo dire che di nuovo il formato non valido non l'abbiamo accettato ok e così via poi dobbiamo ancora sicuramente fare due controlli che siano tutti i numeri e che siano tra 0.24 o tra 0.60 questi dobbiamo ancora farli adesso possiamo farli qua possiamo farli più avanti io preferirei rispetto a quanto dice Andrea di annidarlo qua questo controllo io lo farei più avanti perché così non lo devo ripetere quando faccio posizione uguale 1 quando trovo i due punti in posizione uguale 1 quello va fatto comunque sempre è normale che mi dia syntax error supposo uguale uguale 2 no dipende con la cd io l'ho scritto così non da syntax error qua però dipende se è indentato correttamente prima o dopo quindi Anton Giulio bisogna vedere esattamente il tuo codice poi andiamo avanti a questo punto abbiamo capito la logica se è in posizione 1 io innanzitutto controllo se in totale la lunghezza è 4 se sì ore uguale orario di 0 solamente perché nella posizione 1 c'è già il 2 punti e i minuti sono orario di 0 c'è l'ora nella posizione 1 c'è il 2 punti quindi 2 e 3 2 più orario di 3 altrimenti print formato ora non valido ce la facciamo ok qui scusatemi devo mettere 2 punti e andare a capo ok adesso lui si dice che le parenteli non servono scusate a volte queste sottolineature diciamo in grigino ci permettono solamente di scrivere il codice più leggibile tipo ad esempio qua mi dice mettimi gli spazi va bene lo facciamo ma la leggibilità gioca a nostro favore adesso però funziona o no? cioè prima di andare avanti fino qua abbiamo fatto qualcosa di sensato o no? beh possiamo provare a mettere un paio di print print ore virgola minuti ho trovato ore e minuti e vediamo che cosa salta fuori ricordiamoci che ore e minuti sono ancora stringhe vai run formato 10.00 ho trovato le ore 10 minuti 0 fantastico formato 9.05 ho trovato 9.05 di nuovo 9.5 9.05 questo mi deve dare errore no? e infatti mi scrive formato ora non valido poi si arrabbia come una bestia quando arriva la print perché ovviamente quando ho stampato formato ora non valido ore e minuti non li ho assegnati non hanno nessun valore infatti mi dice guarda che la variabile ore non l'hai definita e su questo ci dobbiamo pensare un attimo però me l'ha se ne è accorto 9.05 anche 10.05 che ci dà fastidio formato ora non valido poi mi dà lo stesso errore cosa che potevamo vedere 10.00 manca il simbolo due punti dato non valido e poi di nuovo si arrabbia è chiaro perché si arrabbia perché arriva la print qua sotto ma poiché il dato non era valido non ha fatto ore uguali minuti uguali oppure ore uguali minuti uguali e quindi arriva qua con le variabili ore minuti che non sono definite perché non sono passato da una strada in cui venivano definite e questo dovremmo gestire in qualche modo perché se ho dato un errore non posso pensare di continuare avanti con l'elaborazione non metto i punti perché in questa print non ho messo i due punti questo stampa semplicemente separatamente le ore e i minuti non ho non abbiamo ancora detto una serie di cose per cui se io facessi a xx due punti yy lui tranquillo dice ho trovato xx yy perché è della lunghezza giusta e il due punti è messo nel posto giusto eccetera eccetera ok però finora finora che cosa abbiamo abbiamo separato abbiamo controllato il formato di tipo x due punti xx oppure xx due punti xx e separato le due parti prima e dopo i due punti salvandole in due stringhe diverse poi da lì dobbiamo vedere se sono numeri se queste stringhe contengono valori numerici eccetera eccetera però manca ancora una cosa da qui in avanti dobbiamo proseguire solo se non ci sono state anomalie no state prendendo una strada sbagliata Emanuele ed Andrea nella chat la variabile ore non è non esiste proprio non è che vale stringa vuota non l'abbiamo segnata quindi non la possiamo usare dobbiamo fermarci prima io quello che sto cercando di scrivere qua è se io so che ho stampato un errore uno di questi errori allora non devo più andare avanti il programma si deve fermare qua ok qualcuno mi sta dicendo Antonio mi dice ma questa print metti da dentro i vari if a parte che non mi piace mettere più volte la stessa print in posti diversi ma poi non è il tanto il problema di questa print che tanto poi la tolgo ok il problema è tutto il resto del programma allora che cosa ci servirebbe qua qui devo rispondere la domanda ma ho trovato errori prima? questa è la domanda che mi devo fare qua però come faccio io adesso a sapere se prima ho trovato errori? potrei salvarmelo in una variabile booleana trovate errori allora se non ho trovato errori allora stampa questo quindi abbiamo trovato un uso di queste variabili booleane usate come flag in cui dice inizialmente non ho trovato errori quindi questa variabile la posso inizializzare a false come l'ho chiamata? trovati errori trovati errori uguale a false quindi se tutto va bene dico che non ho trovato errori i dati sono giusti se poi mi accorgo che il formato ora non vaido trovati errori diventa true se poi mi accorgo che il formato ora non vaido trovati errori diventa true se il simbolo non c'è trovati errori diventa true se il formato ora non vaido trovati errori diventa true quindi se qui ho fatto tante if tante diramazioni se in almeno una di queste diramazioni ho trovato ho incontrato questa istruzione trovati errori uguali a true allora più avanti molto più avanti potrebbe essere me lo ricordo e ho questa varia trovata errori che mi dice guarda che c'è stato qualche problema no? quando io sono qua è come tu guardi un bambino e gli guardi le mani e gli dici hai le mani sporche di marmellata quindi prima hai rubato la marmellata non sai quando però le mani si sporcano e poi può fare tante altre cose può giocare una cosa può giocare l'altra ma la macchia di marmellata rimane l'unico modo per cui la macchia di marmellata non rimanga è che lui si è lavato le mani qui e poi non l'ha mai toccata la marmellata quindi non è mai passata né da qua né da qua né da qua e così via quindi è un indicatore che inizializzo a zero a falso quindi ho inizializzato una variabile trovato errore è un valore falso se tutto va bene fin all'inizio del programma chiaramente gli errori non li ho ancora trovati non ho manco ancora visto i dati poi eventualmente durante l'esecuzione del programma potrei doverlo mettere a vero per dire qui c'è un errore qui c'è un altro magari ce n'è più di uno vorrà dire che quella variabile verrà messa a vero più volte ma fa lo stesso è sempre vero rimane e alla fine mi chiedo almeno una volta questa variabile l'ho messa a vero e allora vuol dire che almeno un errore l'ho trovato adesso non so più quale sia l'errore a questo punto ma almeno uno l'ho trovato e allora questa print la faccio solo se non ho trovato errori quindi rifacendo questo ci siamo tolti speriamo se tutto funziona che so se io scrivo x y no 0 2.0 mi dice formato ora non vaido e quindi la variabile ore e la variabile minuti non vengono create ma non prova nemmeno a fare la print perché ho trovato degli errori quindi quando abbiamo delle condizioni complesse subito facciamo qualcosa in funzione di questa condizione ma se dobbiamo ricordarci cosa avevamo fatto prima perché più tardi ci serve ecco le variabili booleane che abbiamo appena visto possono proprio essere usate per questo da adesso in poi siamo in discesa perché allora innanzitutto tutto il resto del programma sta sotto questa if perché il resto del programma lo facciamo solo se non ho trovato errori se no ho finito lì ho stampato l'errore e il programma finisce a questo punto possiamo andare a fare i controlli quindi estrai il valore numerico dell'ora quindi essenzialmente dovrò fare ore uguale int di ore ma occhio questo lo posso fare solo se solo se le ore sono un valore numerico quindi solamente se if ore che è una stringa e ore si chiamava e avevamo visto ieri che c'era la funzione isNumeric che restituiva vero se la stringa è una stringa numerica altrimenti restituisce falso una stringa è considerata numerica se tutti i caratteri della stringa sono numerici e c'è almeno un carattere quindi non è una stringa vuota quindi se ore è numerica allora posso convertirla in intero a questo punto sono sicuro che la int non verrà mai chiamata su una stringa che non è numerica perché altrimenti mi darebbe errore e a questo punto andrò a controllare se se le ore non sono comprese tra 0 e 60 59 no 23 scusate allora avrò un problema quindi sarò magari stamperò valore non valide e dirò che ho trovato errori e poi avrò un else qui print le ore non sono numeriche e trovate errori uguale true ormai abbiamo capito che questo flag ci serve per ricordarci cosa stiamo facendo quindi cosa può capitare che le ore sia un valore numerico se sì lo converto se no dico che non sono numeriche e mi salvo l'errore se l'ho convertito e dopo che l'ho convertito che a questo punto è un numero intero e quindi posso confrontarlo con dei numeri interi comprato a 0 e 23 cioè not quindi non comprato a 0 e 23 quindi è un errore dirò che le ore sono dei numeri ma non sono numeri validi e poi dovrò fare ovviamente la stessa operazione con i minuti allora Jacopo dice non abbiamo ancora diviso le ore dei minuti no l'abbiamo già divise perché le abbiamo divise qua sopra nel caso dei due punti nelle due varie posizioni le abbiamo divise qua quindi ore e minuti sono già separate infatti questo è ore non è orario orario era ciò che avevo letto prima Emanuele dice potrei controllare ore e minuti insieme si può anche fare sì è un modo diverso di portare avanti in parallelo sia le ore che i minuti sicuramente si può fare la differenza tra is numeriche e is digit non me la ricordo ma andiamo a cercare is digit is digit mi dice ritorna se tutti i caratteri nella stringa sono cifre e c'è almeno un carattere nella stringa è la stessa cosa direi è la stessa cosa sono cifre e nell'altro caso direi che sono assolutamente equivalenti dalla documentazione sono numerici la documentazione è contro il Q quando sono sulla funzione allora qui abbiamo la parte sulle ore dobbiamo fare la stessa cosa sui minuti i minuti ovviamente li facciamo se ancora non ho trovato errori if non ho trovato errori perché potrei aver trovato errori nelle ore allora perché se ho le ore non vai è inutile che vada a fare l'operazione sui minuti altrimenti farò minuti uguale int di minuti e poi faccio la stessa cosa di prima ma con i minuti quindi faccio un po' di copia e incolla se i minuti non sono tra 0 e 59 dirò minuti non validi i minuti non sono numerici questo trovato errore uguale true che mi sta chiedendo se ho capito bene Nicolò è l'else rispetto questa if quindi se ore punto is numeric elaboro le ore altrimenti le ore non sono numeriche quindi hanno dei caratteri che non vanno e allora devo segnare che c'è un errore ho dimenticato di controllare se i minuti non sono numerici certamente ho dimenticato quindi non ho trovato errori a questo punto posso mettere and no non mi piace tutto questo va messo così if minuti is numeric e tutto questo va rientrato di un livello quindi se nelle ore non ho trovato errori vado a vedere i minuti e minuti significa controllare che sia numerico e controllare che sia 3 o 59 e quindi mi sono dovuto rientrare di 1 mi era venuta la tentazione di mettere un end qua e unire queste due condizioni ma poi non ero più d'accordo sull'else nel senso che questa condizione di end avrebbe stampato i minuti non sono numerici nel caso in cui ci fosse stato un errore sulle ore che non aveva senso fare queste cose ci stiamo rendendo conto adesso per voi è sicuramente difficile seguire una cosa che sto facendo io viene bene se uno ha in mente l'equivalente del diagramma di flusso so che cosa fare e lo scrivo sotto forma di codice capisco che cosa è dentro che cosa quindi tutto parte chiaramente dal ragionamento dalla chiarezza che avete sulle operazioni da fare e poi una volta che la chiarezza si tratta di articolarla un'istruzione dopo l'altra e quando scrivo le istruzioni cominciano a mettere i dubbi questo l'ho trattato l'ho dimenticato eccetera eccetera quando scrivo Filippo mi dice quando inizialmente trovati errori era falsa quando scrivo not if not trovati errori che cosa significa significa che questa condizione if è vera se trovati errori è falsa quindi nel caso in cui sia fortunato e non ho mai trovato nessun errore questa è falsa rimane falsa e quindi questa if si sarà scritto if not falso not falso è vero quindi trovati errori falso vuol dire che non ho trovato errori quindi if not trovati errori vuol dire se non ho trovato errori se trovati errori è falso not trovati errori è vero e quindi faccio questa parte di codice questo codice non lo faccio invece se trovati errori diventa vero quindi not di vero diventa falso if falso non fa Questo codice Quindi Lo leggiamo anche bene in italiano Se non ho trovato errori Quindi se l'informazione che io abbia trovato errori Non è vera, cioè è falsa Faccio questo Perché devo fare questo nel caso in cui trovati errori sia falsa Questa qui, scusatevi, se vi dà fastidio La potete scrivere così If trovati errori Uguale false È assolutamente equivalente Se vi trovate meglio a leggerla così È esattamente la stessa cosa Cioè se il valore Trovate errori È rimasto falso così come era all'inizio Quindi il bambino non ha le mani sporche di marmellata Ok Dopo tutto questo lavoro Finalmente Possiamo fare questo Start1 uguale ore per 60 più minuti E quindi possiamo vedere ad esempio Quanto vale Start1 Riavviandolo Proviamo a fare 10.05 E mi dice 605 Giustamente perché 10 per 60 più 5 Noi abbiamo Ma è colpa vostra Che me l'avete fatto fare Ho preso un'istruzione Ho preso un'istruzione che era una riga Start1 uguale int di input Ok L'abbiamo trasformato Per questo Start1 abbiamo dovuto scrivere un programma di 80 righe Vabbè ci sono dei commenti 80 righe di cui Fatemi dire Quelle utili Sono questa Trova i due punti Questa Separa ora da minuti E Questa Converte in numeri Sono tre Ne abbiamo contate tre Quattro la moltiplicazione Ok Abbiamo tante istruzioni Di cui quattro sono quelle vere Che servono Tutte le altre sono Controllo degli errori Controllo dell'immissione corretta La correzza dei dati I dati ci sono Sono giusti Sono nell'intervallo giusto Eccetera eccetera Questo è normale Che succede in un programma Quando faccio un input dall'utente E purtroppo trattare l'input Quando non sia già Nel formato comodo Avrei potuto chiedere all'utente Senti ma Se sono i 10.5 Inseriscimi i 605 Fatti tu a mano i conti Però chiaramente che non è molto educato Tutte le volte che dobbiamo convertire A questo punto Un orario scritto in questo modo In un numero facile da usare Che potrebbe essere il numero di minuti scalari In questo caso Doviamo fare un lavoro di questo genere Poi per carità Andiamo avanti Diventeremo più bravi Riusciremo a scrivere alcune di queste cose In modo più compatto Più sintetico Altri passaggi riusciremo a saltarli Eccetera eccetera Ma il concetto è sempre lo stesso Ok Poi ricordiamoci Adesso non voglio rubare altro tempo Perché siamo già un po' lunghi Che la stessa cosa devo fare per end 1 Per star 2 Per end 2 E quindi Ci vorrebbe anche voglia Di trovare un modo Per riusare queste cose E non fare copia e incolla O di 80 righe 4 volte Perché altrimenti Veramente non si capisce più nulla Ma questo ovviamente Impareremo a farlo Con i cicli Ma con le funzioni Soprattutto Incapsuliamo questo codice Detto la funzione Che richiamiamo più volte La funzione definita da noi Che richiamiamo più volte Ok Allora io adesso questo codice Che abbiamo fatto Diciamo così Lo condivido volentieri Quindi lo potete guardare Sicuramente carico tutto Sui materiali Non preoccupatevi Anche i vari esempietti Che abbiamo fatto Chiaramente da soli Non si capisce cosa servono Però avendo seguito la lezione Voi avete il riferimento Può darsi che ci siano ancora Degli errori Assolutamente Non è detto che questi Siano perfetti O siano giusti Però per lo meno Ci dà qualche Qualche informazione In più Che su questa settimana Era un po' Il cuore Dell'argomento Sapendo Avendo fatto questo Voi sicuramente Riuscirete a fare Anche l'esercizio Quattro Cioè prendiamo Il diagramma di flusso Quattro Del laboratorio scorso Il quattro Quello sulle stagioni E provate a farlo Sotto forma di programma Sul diagramma di flusso L'avete già ragionato L'avete già disegnato Proviamo a tradurlo in python Lì ci sono diverse combinazioni Diverse condizioni complesse Quindi è un buon allenamento Buon esercizio Noi ci vediamo in qualche modo Durante il laboratorio di giovedì E invece proseguiremo C'è ancora una piccola coda Dell'unità 3 Sull'output E sulla validazione dell'input Ma questo lo vedremo tranquillamente L'undi prossimo Adesso cerchiamo di concentrarci Su questi diagrammi di flusso Con le scelte complicate Scusatemi per lo sforamento Di pochi minuti E ci vediamo Nel prossimamente Grazie a tutti Arrivederci